bella a tutti ragazzi e allora quest'oggi parleremo di una delle armi del momento l'M13B è un'arma un po' difficile da sbloccare quindi ci vorrà un po' più di tempo per poterla sbloccare comunque vi dico direttamente il setup migliore per poterla rendere un'arma molto efficiente allora come volata andremo ad utilizzare la volata Arbinger D20 come canna invece andremo ad utilizzare la canna da 14 Bruen Echelon come ottica allora l'ottica è una cosa soggettiva però più andate a zoomare quindi più utilizzerete un'ottica con più zoom per vedere più l'ottica lontano più troverete rinculo nell'arma io ho utilizzato il VLK 4.0 e onestamente ho visto che il rinculo è molto più alto rispetto a quest'ottica 3.4x quindi io vi consiglio di utilizzare questo dopo vi ripeto l'ottica è soggettiva vedete un po' voi per quanto riguarda invece il caricatore andremo a mettere i 45 colpi l'ultimo oggetto da aggiungere all'arma sarà il sottocanna e andremo a utilizzare il VX Pinapple e allora io penso che questo setup sia il migliore in circolazione comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate mi raccomando in descrizione lascerò sempre il link della playlist per vedere gli altri setup delle altre armi e nulla non dimenticate di lasciare un like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video bella a tutti a tutti